Nel video di oggi vi darò qualche consiglio per realizzare delle buone fotografie durante il periodo delle vacanze estive. Io le vacanze le ho appena fatte e quindi vi porto l'esperienza che ho appena fatto con qualche suggerimento per portarvi a casa delle foto migliori e in maniera più efficiente. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni principalmente per le aziende quindi ho dovuto sviluppare un certo coefficiente di efficacia quando vado a realizzare i miei lavori. Cerco di portare questa efficacia anche nel momento in cui vado a scattare fotografie per svago durante le mie vacanze e durante questo video vado a portarvi in particolare tre consigli che sono estrapolati dalle mie ultime vacanze nella città di Venezia. Vi darò anche un consiglio bonus che è molto molto importante ma ve lo darò solamente alla fine del video motivo per cui vi consiglio di rimanere sintonizzati fino alla fine. Per chi di voi non l'avesse ancora fatto vi ricordo anche di iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi i prossimi aggiornamenti. Guardate che io lo vedo dalle statistiche che il 60 per cento di chi fruisce abitualmente i miei contenuti attualmente risulta non iscritto al canale quindi il bottone subito qui sotto è un peccato andare a perdervi dei contenuti che comunque fino a qui hanno catturato il vostro interesse. Ma andiamo subito a cominciare con il primo consiglio. Ora per chi mi conosce voi lo saprete già io detesto i super zoom non nel senso che non mi piaccia la versatilità anzi a me piace lavorare con gli zoom ma quello che proprio non mi va giù del concetto di super zoom è di sacrificare gran parte della luminosità e un po' della nitidezza in favore di un range un pochettino più esteso. Durante queste vacanze devo dire che mi sono guardato in giro e mi sono reso conto che la stragrande maggioranza delle persone dei turisti che stavano lì con me avevano tutti delle ottiche super zoom quindi avevano qualcosa come un 18 200 come un 55 250 un 70 300 insomma avevano tutti quei range che a me non sono mai stati particolarmente simpatici li ho sempre un po' snobbati eppure devo dire la maggioranza delle persone che avevo intorno a me hanno scelto quella lunghezza focale. Secondo me è una scelta che ha assolutamente senso nel momento in cui si fanno delle visite perché per almeno due ottime ragioni il primo che io reputo che un super zoom sia facile da usare è facile comporre con un super zoom perché a meno che non siamo in un contesto dove serviva un grand'angolo e lì siamo spacciati ma altrimenti se stiamo visitando una città riusciamo a fotografare i campanili riusciamo a fotografare i rosoni delle chiese riusciamo a fotografare un po' di street in lontananza riusciamo a fare se siamo a venezia riusciamo a beccare le gondole fare dettagli anche da lontano senza infastidire la scena quindi è una lente che secondo me in certi tipi di contesti risulta essere abbastanza premiante inoltre è facile comporre perché in qualunque circostanza ci troviamo escludere parte della scena è sempre più facile piuttosto che includere quindi se io ho un grand'angolo sono un pochettino più vincolato la scena è quella devo per forza comporre in quel modo cercando di escludere gli elementi di disturbo ma con un grand'angolo è difficile perché prendo tutto con un super zoom invece io vado a zoomare ho automaticamente escluso tutti gli elementi di disturbo e farò una foto più close up sul mio soggetto principale però sarà una fotografia con una maggiore probabilità di successo inoltre devo dire questo tipo di ottica a me non piace particolarmente perché sacrifichi un sacco di luce ma devo anche dire mi sono reso conto durante questa esperienza che la maggior parte delle foto si scattano di giorno quindi fotografie di giorno col sole anche se stiamo scattando con un f7.1 non c'è problema non esiste questo problema perché col sole a picco dovremo chiudere probabilmente quindi è un problema che si pone veramente poco per quanto riguarda la sera io mi sono portato uno dei miei piccoli tre piedini della manfrotto che probabilmente ho anche già recensito in qualche video andatevelo a ripescare sicuramente ne ho parlato in qualche contenuto già pubblicato sul canale tre piedino veramente tascabile lo tenevo nella tasca dei jeans all'occorrenza lo tiravo fuori lo appoggiavo su un muretto o anche per terra e facevo la mia posa lunga da 5 secondi 10 secondi o quel cavolo che volevo io e in questo caso anche con un'ottica poco luminosa portavo a casa esattamente la stessa foto anche di sera quindi non era veramente un grosso problema motivo per cui ho davvero rivalutato le ottiche super zoom pur non avendone pur non avendole usate durante questa vacanza è ben inteso passiamo però al secondo consiglio che è cruciale perché è legato al primo ragazzi io mi sono guardato intorno e ho visto i turisti intorno a me in particolare mi ricordo questo ragazzo che era asiatico non chiedetemi di dove penso giapponese aveva una sony con un super zoom e a un certo punto si è seduto in barca di fianco a me io mi sono reso conto che non ho potuto farci niente ho sbirciato il suo display era lì di fianco a me stava scattando una foto con una mirrorless ho visto il suo display ho visto che cosa stava scattando praticamente stava facendo una super zoomata sulle mani di un turista che teneva in mano le chiavi di una delle barche ed era lì che ci dava e avrà fatto cinque o sei foto in super close up di queste mani con le chiavi in mano e io non ho potuto fare a meno di pensare dentro di me cosa stai facendo che cos'è questa cosa voglio dire stai visitando una delle città più belle più romantiche del mondo ci sono centomila cose da fotografare puoi fotografare i monumenti puoi fotografare le persone ma le espressioni puoi fotografare le bancarelle puoi fotografare le persone con cui sei venuto in vacanza perché stai fotografando le mani di un altro turista con in mano le chiavi di un motoscafo cioè quando torni a casa cosa pensi che ti dia questa foto no fatemi capire vi prego aiutatemi perché io mi immagino uno che torna a casa dice ah che foto hai fatto e ho fotografato questo tizio che aveva delle bellissime chiavi in mano è una foto che per me non ha assolutamente senso la potevi fare a casa tua quella foto lì prendevi uno qualunque gli dicevi reggi il mazzo di chiavi di casa della nonna pepina o della zia ernesta lo facevi stare lì così e gli facevi la foto in un punto qualunque lo sfondo era tutto sfocato e completamente irriconoscibile e io lì mi sono proprio detto questa è una cosa che voglio portare a chi mi segue sul canale quando facciamo una fotografia cerchiamo di pensarci un pochino cioè non facciamoci rapire dal fatto che possiamo zoomare sulle mani del primo tizio che passa per fargli una foto alle mani ma fosse stato capitano uncino capito mi avessero detto e no sai però gli avevano mozzato una mano aveva un gancio di metallo al posto della mano allora dico va bene allora è una roba particolare fotografala pure due mani così a coppa con dentro delle chiavi di una moto di una di una moto d'acqua ma che foto è aiutatemi a capire vi prego scrivetemi nei commenti se anche voi fate delle foto di questo tipo io veramente non ci capisco il senso è una foto che torni a casa e non si capisce doveri non si capisce che cosa mi rappresenta non si capisce perché l'hai fatta soprattutto non si capisce perché ne hai fatte sei o sette a raffica di fila di quella roba lì veramente io non capisco aiutatemi a capire quindi il consiglio che vi porto è questo pensiamo a quello che stiamo fotografando pensiamo a quello che stiamo visitando pensiamo a che cosa vogliamo raccontare di quello che abbiamo visitato quando torniamo a casa e io non ci credo che tu vai a venezia e la prima cosa che ti viene in mente sono le chiavi di una moto d'acqua tenuta in mano da un altro turista non ci credo non ci credo smentitemi nei commenti se ci riuscite bene ma siamo già al terzo consiglio e questi consigli sono tutti un po legati tra di loro infatti quando ve lo dirò vedrete che sono a cascata a partire dal primo per arrivare all'ultimo e hanno tutti un filo conduttore il terzo consiglio è questo ragazzi io durante questa vacanza mi sono reso conto che la foto più bella del mondo non vale un minuto con le persone a cui volete bene per cui quello che vi voglio lasciare oggi è veramente questo noi qui se mi seguite vuol dire che siete appassionati di fotografia almeno tanto quanto me se no non sopportereste la mia voce e la mia faccia per 9 minuti e 52 segna in questo momento il timer probabilmente poi il montaggio sarà un po di meno però insomma non riuscireste a tollerarmi così a lungo se non foste appassionati di fotografia anche voi lo sono anch'io credetemi eppure io vi dico una cosa durante questa vacanza io mi sono proprio reso conto che sì la foto la faccio va bene ma non passo la vacanza con la macchina al collo assolutamente no passo la vacanza cercando di godermela e solo se vedo una bella scena tiro fuori la macchina fotografica allora mi prendo anche un quarto d'ora per fare quella singola foto ma il resto del tempo deve essere dedicato alle persone con cui sono andato in vacanza e ad avere dei bei ricordi perché alla fine le foto della vacanza anche questo devono essere dei bei ricordi e il più bel ricordo lo fotografi con gli occhi non con la macchina fotografica quindi quello che vorrei veramente lasciarvi oggi è questo godetevi i momenti che avete con le persone con cui siete andati in vacanza con le persone che amate e che vi amano la fotografia viene dopo ed è un bellissimo di più che possiamo avere lì ma non è lo scopo della vacanza non è lo scopo della vita viene dopo e anzi sta a simboleggiare la vacanza e sta a simboleggiare la vita e quindi senza la vacanza e senza una bella vita non ci sono nemmeno delle belle foto a meno che non si vada a fare foto su un teatro di guerra allora dici situazione orrenda foto bellissima vabbè ma è un altro discorso secondo me la cosa veramente importante è goderci quello che abbiamo quello che stiamo vivendo e poi le belle foto vengono vi faccio un esempio su tutti stavamo passando una bellissima serata e un bel momento mi sono reso conto con mio sommo stupore perché io non vado a Venezia da oltre vent'anni mi sono reso conto che stava avvenendo l'alta marea stava avvenendo sull'acqua e allora mi sono detto aspetta un momento facciamo una bella cosa io adesso torpe pensate che roba io tutto il giorno non ho fatto quasi neanche una foto e io in tutta la vacanza credo di aver fatto meno delle famose 36 foto ne ho fatte di meno però in quell'occasione ho proprio detto aspetta un momento torno un attimo in albergo prendo la macchina fotografica col mio treppiedino perché voglio fare una posa lunga della marea che viene fuori da piazza san marco con i riflessi sull'acqua e lì ho preso la macchina fotografica perché avevo visto una cosa che volevo fotografare l'avevo lasciata in camera l'avevo lasciata in camera ok però ho visto una cosa che mi interessava ho detto questa potrebbe essere una bella foto potrebbe ci voglio crede e allora mi faccio lo sbatti vado a prendere cinque minuti a piedi mi faccio vado a prendere la macchina in albergo prendo il mio treppiedino torno qui mi prendo 15 minuti per fare tre foto ho fatto tre foto sì ho fatto una foto ogni cinque minuti sono lento lo so ho fatto tre foto di cui sono moderatamente soddisfatto è più il ricordo che la foto in sé non è un capolavoro ci sono fotografi che abitano lì che hanno fatto delle cose strepitose io l'ho fatta così con la mano sinistra mentre stavo bevendo uno spritz ma sono molto contento della vacanza in primis e quindi la foto che ho fatto anche se non è il massimo anche se non è bella non potevo non potevo fare più di così perché comunque non ero attrezzato per fare più di così ma sono contento di quello che ho fatto perché non era nemmeno previsto e quindi mi va bene così e sarà un bel ricordo ed era grosso modo quello che volevo da questa vacanza avere un bel ricordo e se le foto che ho fatto servono a farmi avere un bel ricordo sono il fotografo più fortunato di venezia quantomeno signori a questo punto vi chiedo come sempre fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate voi vivete per la fotografia o fotografate per la vita fatemi sapere che cosa ne pensate è un dibattito molto ampio per cui sono convinto di aver innescato una bella miccia adesso aspetto i vostri commenti vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale perché poi io vado a rispondere con degli shorts verticali e magari ve li perdete se non vi scrivete subito anche perché poi ve lo dimenticate io lo so che ve lo dimenticate e noi questo non lo vogliamo signori è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e con questo mi auto do il bentornato dalle vacanze e vi do nuovamente appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao